Pubblichiamo oggi il rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l'ex cardinale Theodore Edgar McCarrick che la Segreteria di Stato ha preparato sul mandato del Papa. Per realizzarlo sono serviti due anni di lavoro. Sono stati esaminati i documenti degli archivi della Santa Sede, dell'Annunziatura Apostolica di Washington e delle diocesi degli Stati Uniti coinvolte. Sono stati ascoltati molti testimoni. Ci siamo mossi alla ricerca della verità per rispondere alle domande suscitate dalla vicenda. L'invito che mi permetto di rivolgere a chiunque cerchi risposte è di leggere interamente il documento e di non illudersi di trovare la verità in una parte piuttosto che in un'altra. Solo dalla visione complessiva sarà possibile comprendere quanto è accaduto. Vorrei aggiungere che pubblichiamo questo rapporto con dolore per le ferite che la vicenda ha provocato alle vittime, ai loro familiari, alla Chiesa negli Stati Uniti, alla Chiesa universale. La fiducia di molti fedeli nella Chiesa è stata danneggiata. Come ha fatto il Santo Padre, anch'io ho potuto prendere visione delle testimonianze delle vittime raccolte durante l'indagine e depositate negli archivi della Santa Sede. Le loro parole hanno comunicato il dolore per quello che hanno sofferto e il loro contributo è stato fondamentale. Negli ultimi due anni, mentre veniva preparato il rapporto, abbiamo fatto dei passi in avanti per assicurare maggiore attenzione alla tutela dei minori e, interventi più efficaci per evitare la ripetizione di errori del passato. Come ha affermato Papa Francesco, il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore. Dobbiamo perciò ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità. Dalla lettura del rapporto emergerà che tutte le procedure, compresa quella della nomina dei Vescovi, dipendono dall'impegno e dall'onestà delle persone interessate. Sono pagine che spingono a fare un profondo esame di coscienza e a chiederci che cosa possiamo fare di più in futuro, imparando dalle dolorose esperienze del passato. Vorrei concludere dicendo che al nostro dolore si accompagna uno sguardo di speranza. Poiché questi fenomeni non si ripetano accanto alle norme e ai protocolli, abbiamo bisogno di una conversione dei cuori. C'è bisogno di pastori che siano annunciatori e testimoni del Vangelo e ciò è possibile, ne dobbiamo essere tutti ben coscienti, soltanto con la grazia dello Spirito Santo e confidando sempre nelle parole di Gesù. Senza di me non potete far nulla.